Un incontro cordiale svoltosi principalmente in spagnolo, lingua ben conosciuta dalla regina Silvia di Svezia. Durante l'udienza la sovrana, rende noto la sala stampa vaticana, ha informato il pontefice delle attività promosse nel paese, in particolare in favore dei bambini, mentre Papa Francesco ha colto l'occasione per esprimere gratitudine per l'accoglienza offerta dalla Svezia ai rifugiati e ai profughi. Fra i doni della regina, al successore di Pietro, tre piccoli libri di preghiere isvedese. Grazie.